Mi chiamo Pucci Zagari, sono illustratrice di libri per bambini, vengo da Napoli, ho studiato in Inghilterra, ho studiato a Londra, ho fatto un foundation course e dopo che ho un corso di laurea proprio in illustrazione, con indirizzo e illustrazione di libri per bambini. Il brief è stato molto esplicativo, avevano assolutamente ben in mente come sviluppare le dinamiche delle vignette che erano il positivo e il negativo dell'inclusione, dello sport e del gioco. Quindi sono partita da dieci bozze e siamo arrivati a sei vignette. C'era bisogno di rendere visivamente ma anche nella maniera più semplice possibile, concetti di inclusione delle persone in sede a rotelle ma soprattutto anche dei bambini, quindi che fosse chiaro sin da bambini il concetto che essere su una sede a rotelle non sia un impedimento sociale, non sia un impedimento al gioco. Sono sicura che se cresciamo dei bambini più consapevoli avremo sicuramente meno problemi in futuro in generale perché cresceremo degli adulti più consapevoli del nostro futuro.